non vuoi far sapere quanti soldi hai non ti fidi delle banche oppure hai del denaro che non vuoi far vedere al fisco e quindi c'è un limite al tetto di denaro che posso detenere in casa la polizia può farmi controlli in casa e soprattutto qual è la quantità di denaro che posso tenere in casa in maniera sicura in questo video facciamo un punto della situazione su come prendere le giuste precauzioni proteggendo i nostri risparmi e diverse alternative aggiuntive partiamo innanzitutto devi sapere che non ci sono non c'è un limite di denaro che puoi o non puoi detenere in casa oltretutto da quest'anno come saprai puoi incassare fino a 5.000 euro senza limiti parlo di contanti io ovviamente consiglio sempre di avere dietro un giustificativo una fattura una ricevuta però di fatto così stanno le cose a parte i redditi da lavoro che i redditi da lavoro dipendente devono essere pagati pagati sotto forma di transazioni bancarie quindi bonifici o in classici assegni però nessuno paga un dipendente con un assegno però bonifico ok tutto il resto non ha obblighi si può pagare ad esempio il lavoro di una domestica che ti lavora in casa in contanti ma il resto è insomma come ci siamo appena detti ora seguimi su questo punto perché se tu vai a depositare denaro in un conto corrente spetta al contribuente l'eventuale onere della prova quando l'agenzia d'entrata si sveglia e ti dice ok mi risulta che hai depositato sul tuo conto corrente sto denaro che entra 2000 4000 5000 da dove arriva non è la prova spetta a te ma su quello detenuto in casa no non so se è chiaro sul denaro detenuto in casa non devi provare nulla al fisco sulla sua provenienza ma andiamo con calma seguimi punto per punto se hai soldi sul conto corrente vai a depositare soldi sul conto corrente l'agenzia delle entrate ti può chiedere da dove arriva questo denaro perché ti dovrebbe fare un controllo perché evidentemente tra la sciccia che tu hai depositato i soldini quattrini all'interno del tuo conto corrente non c'è una corrispondenza rispetto alla tua dichiarazione di redditi tu continua a depositare sul conto corrente soldi ma alla fine dell'anno la tua dichiarazione di redditi è di 30.000 euro di 40.000 euro e tu invece hai continuato a depositare sul conto corrente si cifre cifre scusate superiori però di essere chiaro chiudiamo sta parentesi e torniamo al punto precedente se mi entra la polizia i carabinieri in casa per un motivo che non ha nulla a che fare col denaro che io le tengo in casa cosa mi possono chiedere allora innanzitutto lo ribadisco ancora una volta non spetta a te fornire la prova di dove arriva da dove arriva quel denaro non devi giustificare per il possesso del denaro per non ricevere un accertamento però fai attenzione perché il limite è sottile segui perché perché avere una somma di denaro in casa di per sé non vuol dire nulla ma se ho una grande somma di denaro in casa e questa somma non corrisponde alla mia dichiarazione di redditi alle mie entrate dichiarate ci può essere un sospetto di evasione quindi non è che la polizia i carabinieri chiedono dove arriva sto denaro perché tu debba dimostrare la prova dove arriva sto denaro non ti chiederanno nulla partendo da questo principio qui ma potrebbero effettuare una segnalazione alle autorità competenti e chi di dovere andrà effettuare un riscontro per comprendere che tu insomma dalla segnalazione dei carabinieri della polizia avevi 50 mila euro in casa ma il tuo reddito dichiarato è di 20 mila euro avevi un milione di euro in casa e la tua dichiarazione del reddito dichiarata è di 100 mila euro quindi la situazione è poi sempre riconducibile ad un eventuale accertamento e lì sì che dovrai dimostrare l'onere della prova non so se riesci a comprendermi quando ti dico il filo è sottile il confine è sottile non il filo comunque ci siamo intesi non posso avere 1800 euro di stipendio è un lingotto in oro nascosto in casa a meno che non hai una fattura del regolare acquisto del lingotto della donazione del lingotto l'atto di donazione del lingotto che magari in caso di fattura deriva dall'accumulo dei tuoi risparmi nel tempo e poi l'hai acquistato ci sta donazione ci sta ma dovrai carta canta giustificare ora però ti starei chiedendo ancora ma la polizia perché c'ho solo in tasca in casa me può entrare in casa perché magari la banca ha segnalato dei prelievi incontanti no prelevato 10.000 20.000 30.000 50.000 a più botte te li sei portati a casa per un qualsiasi motivo mi può entrare in casa e chiedermi da dove arrivano sti soldi non puoi tenere sti soldi abbiamo già detto questo non lo può fare ma oltretutto dobbiamo aggiungere in quel caso del prelievo sarebbe facile dimostrarlo basta che ti tieni tutti i vari prelievi gli estratti no le contabili del prelievo le metti da parte ma in fine conti quello che tu stai prelevando dal conto corrente è perché entrato in maniera lecita magari venduta una casa ti sono toccati 200.000 euro e deciso che 60.000 te li tenevi in casa invece che tenerli tu su conto corrente per i motivi tuoi però devi sapere di più perché la polizia giudiziaria può entrare in casa solo con una autorizzazione preventiva da parte di un giudice di un magistrato ma per arrivare a questa autorizzazione preventiva devono essere commessi se stati commessi degli illeciti penali tu hai commesso illeciti penali attenzione perché ho detto penali non amministrativi c'è una certa differenza ci siamo spero di sì ora quanto terrei quindi in casa a livello di denaro molto dipende da persona a persona la famiglia a famiglia dall'esigenza nel momento storico che stiamo vivendo molti si iniziano a chiedere se non è il caso di avere non tutti i soldi parcheggiati in banca ma avere qualcosa pronto per qualsiasi eventualità per qualsiasi situazione ecco il consiglio che si danno in genere rispettato rispettato un po da tutti quelli che fanno un lavoro sulla protezione del patrimonio e soprattutto che comprendono quello che è lo scenario attuale e di detenere una cifra che sia pari dai minimo 3 a 6 mesi sarebbe il massimo il topo intendono massimo massimo potrebbe essere anche 12 mesi in base a quello che ti porta sicurezza o meglio serenità tranquillità sarebbe sei mesi di disponibilità liquide per poter mandare avanti la baracca per poter affrontare qualsiasi genere di spesa qualora si dovesse verificare l'ipotesi di dover attivare questa disponibilità di denaro in casa per vivere no c'è un attacco hacker ad una banca c'è un fallimento di una banca c'è la sospensione dei prelievi per qualche giorno da parte di una banca per un qualsiasi motivo bene o una disponibilità economica punto ora arriviamo alle alternative prima però apro e chiudo parentesi ovvio è scontato per chi sta guardando questo tipo di video ma è meglio sottolinearlo lo sottolineo anche con un esempio prima dell'esempio però partiamo dai fatti non è che tu incassi del lavoro che hai fatto e che non vuoi no incassi dei soldi per dei lavori che hai fatto non vuoi far conoscere il fisco poi dopo vai a depositarli sul conto corrente mi sembra evidente che dopo ti potrebbe arrivare un accertamento ma questo vale anche per esempi stupidi mi è venuta a mancare la nonna e ho beccato all'interno di una bottiglia che era chiusa un po di soldini prendo sti soldi sono magari qualche decina di migliaia di euro che in relazione ai miei redditi dichiarati è una botta e li porto in banca li deposito fai attenzione perché difficile poi andare a dimostrare la providenza del denaro dal cui proveniva la nonna che l'ha messa da parte ci siamo intesi per fare una battuta ok quindi bisogna stare molto attenti soprattutto a questo tipo di operazioni chiusa la parentesi che ritengo comunque scontata per chi sta guardando questo video andiamo avanti le alternative l'alternativa a quelle di tenere soldi in casa è sostanzialmente quella classica degli italiani di detenerli in delle cassette di sicurezza in banca è una cosa che fanno molti italiani eh tengono i soldi nella cassetta di sicurezza in banca ovvio che dal mio punto di vista il contenuto che si tiene nella cassetta di sicurezza andrebbe assicurato ma per poterlo assicurare in maniera puntuale e precisa che poi ti venga riconosciuto in caso di furto in qualsiasi cosa potrebbe accadere la cassetta di sicurezza in banca bisognerebbe indicare esattamente il valore di ciò che c'è dentro e ma se indico il valore automaticamente viene meno la riservatezza rispetto al contenuto e anche quello è un rischio un rischio che si può cogliere perché comunque le cassette di sicurezza i sistemi di protezione delle banche non sono come casa mia e casa tua con l'allarme abbastanza complicato però può accadere no una volta su mille può accadere ed è bene saperlo che si può fare ci si assume quel po di rischio che c'è nel denello di una cassetta di sicurezza denaro così come anche gioielli oro o altro e si evita di pagare un'assicurazione ma devi sapere che si può anche assicurare il denaro o quello che è contenuto all'interno delle cassette di sicurezza infine qualche consiglio beh qualche nascondiglio si potrebbe parlare delle cassaforti ci sta importante che spendi compri una cassaforte di quelle farlocche quelle che si camuffano facilmente la secondo il secondo consiglio che mi sento di darti e di non dire niente a nessuno un amico quello no non devi dire niente a nessuno se sei come per non usare parole un po se parli troppo lascia perdere questo tipo di soluzione terzo evita di farti vedere mentre prelevi in banca al bancomat perché se sei in una grande città ti assicuro se sei nel paesettino tutti si conoscono non c'è problema ma se sei in una grande città e ti attivi una strategia in cui dici boh inizia a prelevare senza entrare in banca con un limite magari di 200 500 euro al giorno prelevo 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 metto da parte un po di soldi ecco se sta attività diventa frequente stai attento attento a occhi indiscreti perché non so solamente le vecchiettine che vanno a ritirare la posta in posta e la pensione poi vengono truffate ci sono dei furti no ma purtroppo la situazione anche livello sociale in alcune città è diventata abbastanza pericolosa occhio agli occhi discre indiscreti perché la fame in italia inizia a girare poi c'è chi installa un buon sistema di allarmi c'è chi prende un bel rottweiler o chi tiene i soldi in casa e li assicura da eventuale incendio o furto anche quelli che ci sono in casa ovvio che queste soluzioni hanno costi diversi ma l'importante è sapere e poi decidere di conseguenza inizia a girare inizia a girare inizia a girare grazie a tutti grazie a tutti Grazie.